rogno l'amministrazione comunale via diversi interventi di manutenzione opere per oltre 500 mila euro sovra attivati tutti i cantieri già in programma riasfaltature illuminazione pubblica il parco l'ex filatoio e alla messa in sicurezza del bacino pleistocenico clusone la parrocchia si organizza per il ritorno in chiesa dei fedeli in basilica 160 posti 115 al santuario della madonna del paradiso buonasera ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 un 22enne rimasto ferito nell'uscita di strada di un veicolo avvenuta ieri sera poco prima di mezzanotte nel territorio di darf buario terme in via lago moro la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l'elicottero abilitato al volo notturno decollato da brescia il ragazzo è stato trasportato in volo agli spedali civili di brescia dove è arrivato in codice giallo ora proseguiamo con i dati di regione lombardia sulla diffusione del coronavirus i tamponi effettuati sono complessivamente 564.550 più 14.145 i casi positivi 84.518 più 399 casi i guariti 34.219 più 402 in terapia intensiva si contano 268 persone meno 8 casi rispetto a ieri i ricoverati non in terapia intensiva 4521 c'è stata una diminuzione di 184 casi il numero dei decessi resta sempre elevato sono 15.450 ci sono stati altri 39 decessi e veniamo anche ai casi per provincia in provincia di bergamo si registrano 12.397 casi più 26 ieri erano aumentati di 24 unità ieri il dato era aumentato di 60 unità i lunedì 18 maggio sono attese le riaperture di diverse attività ne abbiamo parlato con il consigliere regionale di cambiamo paolo franco più volte nei giorni scorsi abbiamo sentito operatori economici che chiedevano di poter aprire il prima possibile il 18 lunedì finalmente la riapertura ci sono però diverse questioni ancora da chiarire e c'è anche la questione delle responsabilità anche dei datori di lavoro si io vivo questo questo patos non solo da consigliere regionale ma anche da uomo di impresa e quindi capisco benissimo sono in prima linea proprio per cercare di fornire tutte le indicazioni possibili immaginabili per chi ancora in questo momento sa che aprirà ma il decreto del governo che con la firma che dice si puoi aprire non c'è diciamo che il frutto di questa attenzione da parte di regione lombardia è scaturito proprio nel pomeriggio di ieri dove si è chiesto con forza che la regione lombardia condividendo questa apertura e dando delle linee guida importanti comprendendo che siamo sul filo del rasoio per queste attività perché aprire significa anche cacciargli una responsabilità che hanno voluto mettere nel decreto nazionale che è quella della malattia professionale infortunio sul lavoro ribaltando tutti i temi di costi di prevenzione ancora sull'impresa e ancora sul personale dipendente su questa partita qua ci giochiamo anche un senso non solo di responsabilità ma anche in cui lo stato in qualche modo quindi anche il governo ci deve dire chiaramente l'aver anticipato una decisione di apertura rispetto a una che aveva previsto più avanti io dico non capisco come mai sempre tra venerdì sabato e domenica e non la possiamo prendere lunedì regione lombardia ha emanato già una serie di linee guida le associazioni di categoria le hanno esposte ma capisco la difficoltà perché poi ogni negozi di parrucchieri agli estetisti ai ristoranti ai bar ognuna ha una sua dimensione per non parlare degli agriturismo o di tutte delle realtà che da noi hanno la necessità di chiarezza di come devono fare oggi io mi permetto semplicemente di dire che farò una battaglia importante perché questo infortunio sul lavoro come covid non venga proprio considerato ma torni ad essere una responsabilità di tutto lo stato e anche della regione lombardia e non semplicemente a carico delle imprese perché questa è una scorciatoia che il governo ha scelto forse in caso cautelativo e preventivo ma che ha messo all'agonia gli imprenditori che se non aprono non tirano su queste serrande non guadagnano e quindi sono destinati a morire loro e l'economia dei nostri territori che è fondamentale la regione ha messo in campo anche una serie di bandi come il safe working che sono quelli per cui si riesce a finanziare quel minimo di spese che si devono avere per poter attrezzare e fare in modo di tenere il distanziamento sociale cari bergamaschi, cari uomini avverseriani delle nostre valli partecipiamo a questi bandi perché altrimenti non serve neanche questa spinta importante di risorsa per poter ripartire. L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi ha annunciato che gli agriturismi potranno effettuare servizi d'asporto e la consegna a domicilio come servizio stabile, previsti anche interventi anti-burocrazia le semplificazioni sono tra le misure previste per aiutare un settore che ha sofferto molto in questi mesi abbiamo a tal proposito raccolto la testimonianza di due fratelli di Fiume Nero di Valbondione che nelle scorse settimane in tre giorni hanno perso entrambi i genitori che da 32 anni gestivano l'attività Ecco innanzitutto questo per voi che periodo è stato? È stato un periodo brutto come tutti associato a un periodo di dolore personalmente perché è venuto a mancare mia mamma e mio papà che erano comunque i pilastri, l'anima di questa nostra attività agrituristica e dunque è stato proprio, diciamo che parole non ce ne sono, è stata dura veramente, dura ed è dura però si cerca di andare avanti, si cerca di avere la forza comunque di una continuità visto che siamo sempre stati una grande squadra perché comunque sono partiti mia mamma e mio papà con mio zio, mia zia, sono partiti diciamo dal niente e hanno costruito tutto questo ci hanno lasciato comunque una base solida per andare avanti e adesso il problema è come andare avanti Certo però che con gli animali non vi siete mai fermati Assolutamente no, del resto l'agriturismo ha dovuto chiudere per le normative che sono state approvate L'azienda agricola invece come tante altre aziende agricole ha dovuto proseguire gli animali sono da codire comunque, da mungere, c'è da fare il formaggio tutti i prodotti vengono prodotti naturalmente e continuamente perché non si possono fermare e durante questo periodo che è stato brutto e duro e non si sa ancora se è finito definitivamente i prodotti sono stati realizzati in parte portati a domicilio quel poco che si poteva fare e la nostra attività per quanto riguarda l'agricoltura è stata tale ed è andata avanti comunque Comunque voi avete deciso di andare avanti, di continuare? Sicuramente siamo in attesa anche da parte della nostra associazione Terra Nostra che fa fede alla Coldiretti di avere in mano comunque una linea guida per poter aprire in modo in sicurezza insomma perché ad oggi non c'è ancora questo diciamo un decreto giusto per quanto riguarda l'agriturismo e aspettando quello in attesa noi siamo proprio pronti a ripartire perché la continuità c'è, la voglia di ripartire c'è e perciò si va avanti con tanta forza, si cerca di andare avanti E voltiamo pagina a Rogno, l'amministrazione comunale ha avviato diverse manutenzioni sentiamo il primo cittadino Cristian Molinari Ecco a Rogno in questi giorni tra cantieri che state avviando e bandi che state pubblicando si stanno per mettere in circolo circa 500 mila euro in interventi Sì, vista anche questa grave situazione che si è andata a creare anche dal punto di vista economico oltre che sanitario abbiamo deciso di muoverci immediatamente con l'approvazione del bilancio provvisorio appaltando quelle opere che sono fondamentali e sono opere di manutenzione del nostro territorio perciò Uniacque in questi giorni sta intervenendo per la pulizia di tutte le caditoie che vanno nella parte bassa del nostro comune sulle tre frazioni diciamo di pianura dopodiché è stata incaricata una ditta di Rogno per fare 60 mila euro di asfaltature nei tratti più ammalorati del nostro territorio verranno appaltati a brevissimo 20 mila euro di ripari stradali e opere di segnaletica orizzontale sono in corso dal 4 maggio appena si è sbloccata la situazione dei lavori sulle nostre strade agro-sivopastorali per 40 mila euro in collaborazione con la comunità montana dei laghi di Rio Maschi e abbiamo vinto un bando per altri 60 mila euro che andremo ad investire sulle nostre strade agro-sivopastorali nei prossimi due massimo tre mesi abbiamo espletato i bandi per l'impresa edile per manutenzione di impresa edile, elettricista e idraulico anche qua si parla di 50 mila euro divisi su due anni abbiamo chiuso con il consiglio comunale dei giorni scorsi abbiamo chiuso la convenzione con la ditta Lages che è una cava estrativa di gesso che è presente sul comune di Rogno questa convenzione ci permetterà di realizzare opere per 150 mila euro tra cui un importante parcheggio per 25 autovetture nella frazione di Castelfranco un'opera pensata già alcuni decenni fa, mai realizzata e che oggi grazie a questa convenzione andremo a realizzare 25 posti auto all'alto del campo di calcio, all'alto del cimitero in una zona centrale di questa frazione oltre ad altre sistemazioni stradali anche qua sempre con un occhio di attenzione sulle manutenzioni del nostro comune grazie alla riapertura della fase 2 si stanno terminando i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Rogno, primaria e anche della realizzazione dell'area camper perciò anche qua due opere che cubano circa 200 mila euro che in questi giorni stanno terminando e si procederà quanto prima per anche tutte le certificazioni e l'adeguamento è stata paltata alla ditta piccolo sentiero anche tutto quello che è lo sfalcio e il taglio del verde delle nostre strade la polizia e sono già entrati all'opera anche qua è un bando di 90 mila euro divisi su due anni perciò a questi lavori già in pista che ammontano a più di 500 mila euro non si aggiunge anche il progetto che abbiamo sul comune di Rogno della nuova isola ecologica quella attuale è piccola e ha grosse carenze anche dal punto di vista della sicurezza stiamo portando avanti il progetto e la realizzazione di nuova isola ecologica che cuberà anche quella circa 350 mila euro perciò abbiamo voluto dare subito un'impronta di ripartenza per far sì che partano le nostre iniziative e in questi giorni stiamo valutando anche che è una cosa molto importante anche quello che potremo andare a decurtare dagli affitti che spettano al comune dalle nostre strutture pubbliche che diamo in affitto a vari gestori andremo a vedere quanti mesi potremo decurtare per dare un aiuto concreto anche agli imprenditori di Rogno tutto questo nell'ottica di una ripartenza nell'ottica di dare sempre più servizi sempre più manutenzione al nostro territorio che ne ha assolutamente bisogno in un'ottica di ripartenza per tutti ecco e permettetemi concludendo un grande ringraziamento a tutti i miei consiglieri e soprattutto ai dipendenti comunali che anche in questo periodo si sono messi a disposizione stanno lavorando intensamente per far partire tutte queste opere e anche a Sovere sono stati messi in moto diversi cantieri già previsti con le precedenti programmazioni ne abbiamo parlato con il primo cittadino Francesco Filippini e per Sovere sono in arrivo risorse anche legate alla gestione dell'emergenza il post emergenza coronavirus sì, nello specifico due canali di risorse il primo dalla regione Lombardia che sono 350 mila euro che si superano sul bienio 2020-2021 per investimenti messi in sicurezza in particolare di strade ed edifici pubblici e notizia di questi giorni nella bozza del decreto al rilancio la provincia di Bergamo è stata segnataria di 68 milioni di fondi, credo e Sovere dovrebbe ricevere circa 327 mila euro e le finalità che sono in questo momento abbastanza sintetiche sono per servizi legati al sociale e al rilancio economico aspettiamo chiarimenti per capire come questa somma che ritengo sia importante possa essere messa a terra il ritorno alla normalità si vede anche dagli interventi che l'amministrazione comunale è in grado di avviare sì, in effetti è così si capisce anche perché abbiamo attivato tutti i cantieri che avevamo in previsione già per quest'anno e che finalmente sono messi a terra interventi importanti per Sovere perché cubano circa 1.200.000 euro di opere sul territorio alcune già chiuse altre in via di sviluppo in particolare abbiamo fatto asfalti per 150.000 euro cercando di raggiungere quelle zone anche periferiche le frazioni in particolare e altri centri storici dove c'erano maggiori necessità è un intervento minimale rispetto alle necessità del paese perché sicuramente Sovere è grande e avremo bisogno di intervenire ancora sugli asfalti in futuro è partita l'altro giorno all'illuminazione pubblica e sono iniziati proprio il lavoro di sostituzione delle lampade un investimento complessivo di 800.000 euro per l'assunzione di 1.200 punti luce circa un lavoro che dovrebbe chiudersi nel giro di 3-4 mesi e risolve finalmente i problemi atavici per Sovere per quanto riguarda la pubblica illuminazione ripartito in maniera molto spedita il cantiere legato all'area attrezzata del piombo fattosi da un privato ma nell'ambito di una convenzione di cessione appunto di quest'area e qua speriamo entro la fine di giugno poter inaugurare il nuovo parco comunale anche se le prescrizioni che ci sono ancora oggi per il Covid-19 ci fanno un po' sorridere rispetto a questo aspetto circa 100.000 euro di cui 45 finanziati da Lombardia per la messa in sicurezza della Valle Longhina una valle che lo scorso anno è tracimata già due volte ha creato grosse criticità sia viabilistiche ma soprattutto per le famiglie che abitano in questa zona intervento iniziato anche questo all'inizio settimana e l'ultimo intervento in cantiere è la messa in sicurezza del bacino palistocenico il famoso cervo fossile di Sovere anche qua un lavoro di circa 90.000 euro 60.000 con un contributo del Gala attraverso la regione Lombardia e il resto con risorse comunali perciò un pacchetto di opere molto importanti che in alcuni aspetti cambieranno un po' la fisonomia del paese parlo in particolare del parco del filatoio e che dimostrano che anche durante l'emergenza si è sempre pronti e vigili a quella che è la programmazione e la normalità e dalla prossima settimana sarà possibile tornare a celebrare le sante messe con la presenza dei fedeli siamo stati a Cluson due file di sedi ai lati una anche al centro nella seconda metà della basilica per il distanziamento dei fedeli che da settimana prossima potranno partecipare alle celebrazioni della santa messa si riorganizzano gli spazi 160 posti in tutto per le persone che si recheranno nella chiesa più importante di Clusone 115 al santuario della Madonna del Paradiso un limite che impone di fatto una soglia numerica ai partecipanti a tutti gli effetti un numero chiuso allora abbiamo calcolato 160 persone due la collocazione saranno due ogni banco per ogni banco due persone una in cima una in fondo le sedie distanziate sempre da un metro e poi l'ingresso della basilica sarà la porta centrale e mentre per l'uscita sempre tenendo una distanza di un metro e mezzo la porta in fondo o anche il portale principale se il tempo lo permette che si può uscire anche da lì e anche per le comunioni ognuno rimarrà al suo posto e passeranno i ministri a distribuire l'eucaristia dopo tre mesi di giuno se così possiamo chiamarlo ecco che da lunedì 18 riprenderà la possibilità di partecipare alla santa messa proprio di persona quindi questo è sicuramente un motivo di gioia perché le nostre comunità ricominceranno a ritrovarsi insieme ovviamente anche per la partecipazione alla messa varranno alcune regole così come siamo stati abituati a vivere in questi mesi l'accesso per esempio alle chiese dovrà essere fatto non in maniera così insieme tutti insieme ma distanziati e poi verrà stabilito in ogni chiesa una porta di accesso e una porta di uscita una sola porta di accesso e di uscita da questa porta di accesso ci saranno i volontari i quali sanificheranno le mani di coloro che entrano in chiesa in chiesa poi ci saranno dei posti segnati ogni parrocchia ha provveduto a alcuni criteri in base ai quali sono stati stabiliti un determinato numero di posti e non di più in chiesa quindi anche qui si conta molto sulla comprensione diciamo delle persone certamente i primi momenti ci saranno anche così alcuni alcuni disguidi magari però ecco contiamo davvero sul fatto che tutti si renderanno conto che come valgono le regole al di fuori dei supermercati così valgono anche per quanto riguarda le regole di sicurezza di accesso alla chiesa all'interno della chiesa poi saranno i sacerdoti stessi a spiegare per esempio le modalità per la comunione eucaristica ma credo che pian piano rientreremo così anche in quei ritmi pur diversi ma i ritmi che normalmente come credenti singoli e come comunità cristiana siamo chiamati a vivere certamente il fatto di poter celebrare la messa insieme diventa anche per tutti noi ma tante persone in particolare che hanno vissuto in maniera drammatica questi mesi diventa sicuramente un motivo di grande conforto e quindi motivo anche per esprimere ancora più da vicino la vicinanza alle persone che certamente non dimenticano facilmente i giorni che abbiamo vissuto anche perché magari hanno avuto dei lutti all'interno delle loro famiglie dopo ogni celebrazione eucaristica la chiesa gli ambienti anche gli arredi verranno sanificati in modo da consentire poi un accesso tranquillo sicuro alle persone che parteciperanno alla celebrazione successiva sicuramente un motivo di gioia tutto questo viviamolo davvero come comunità cristiana che così ha vissuto questi giorni di lontananza ma grazie a Dio anche attraverso la tv Antenna 2 in particolare questo ci è stato possibile anche seguire le trasmissioni le sante messe eccetera ma le vivremo adesso in maniera viva e diretta e anche questo ci aiuti a crescere nella fede e nell'amore fraterno in tutta Italia dal 19 maggio aprono i musei e i monumenti con aperture graduali e monitorate a Bergamo secondo quanto afferma l'assessore alla cultura Nadia Ghisalberti è tutto pronto per la riapertura noi siamo pronti e abbiamo fatto riunioni con tutti i musei tutti i musei della città riapriranno nel weekend nei due weekend di maggio e il venerdì il sabato e la domenica con questi orari il venerdì abbiamo pensato a un orario pomeridiano che va dalle 15 fino alle 22 della sera questo perché è un'idea di maggiore flessibilità negli orari e di aperture serali perché sta cambiando tutti gli orari della città e vengono più spalmati proprio per evitare i grandi affollamenti e quindi le persone camminando in città troveranno anche i musei aperti il sabato invece apriremo con orario continuato sia il sabato che la domenica dalle 10 alle 19 credo che questa sia una grande opportunità per i cittadini che cammineranno riscopriranno una città anche con prospettive nuove e muovendosi da un museo all'altro potranno percorrere vie insolite ricordo che i nostri musei sono tutti abbastanza vicini vanno da Città Alta da Piazza Vecchia fino a Piazza Carrara con una passeggiata molto bella e quindi è un invito un po' ai cittadini a percorrere la città e a visitare i musei musei che però non solo apriranno le porte di nuovo finalmente dopo questi tre mesi di lockdown ma lo faranno in assoluta sicurezza e questi mesi di chiusura sono serviti anche a studiare quali saranno tutte le misure per mettere in sicurezza sia i lavoratori dipendenti del museo sia i visitatori e quindi tutte le prescrizioni che verranno date non le conosciamo ancora nei dettagli ma insomma è chiaro che qualcosa già si sa sul distanziamento fisico sull'avere i dispenser per la sanificazione delle mani sulla sanificazione degli ambienti che è molto importante tutte queste misure verranno assolutamente rispettate in tutti i musei della città poi c'è un tema di biblioteche anche le biblioteche hanno forse qualche problema in più rispetto ai musei perché c'è tutto un materiale cartaceo che va sanificato e su queste ancora non ci sono le direttive dal governo le stiamo attendendo però il 3 giugno questa è una decisione di tutte le reti bibliotecarie della provincia ripartirà l'interprestito che è molto atteso peraltro dagli utenti delle biblioteche cioè la possibilità di prendere in prestito libri e restituirli in qualsiasi biblioteca della città o della provincia un servizio molto amato e quindi siamo molto contenti che possa riprendere per le aperture invece delle biblioteche bisognerà ancora attendere la definizione esatta del decreto e mettere in atto procedure un po' più complesse perché ancora non è chiaro quanto il virus può permanere su materiali cartacei quindi sui volumi che la gente tocca bisognerà anche capire come verrà fatta la sanificazione delle postazioni e naturalmente anche in questi casi ci sarà il distanziamento prescritto nelle postazioni quindi su quello attendiamo ancora i musei comunque apriranno e sarà un'apertura graduale modulata nel tempo ma visto che il pubblico sarà di tipo domestico nel senso di prossimità non per questo i musei se ne staranno fermi e apriranno semplicemente le porte tutti i musei sono impegnati per rendersi sempre più attrattivi verso un'utenza che magari ha già visitato il museo ma che ci tornerà perché sono tante le iniziative e alcune saranno veramente notevoli e saranno delle belle sorprese per i cittadini e ora proseguiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 20.30 trasmetteremo una partita di calcio in replica alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.40 Agri Sapori alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche sul canale al numero 218 del digitale terrestre ma alle ore 21.30 sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo la rubrica di sport S4 Sport Outdoor alle 22.30 la partita di calcio in repica Albino Gandino Mapello ecco anche l'almanacco per domani domenica il 17 maggio il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.53 il culmine è alle ore 13.17 la luna la durata del giorno è di 15 ore e 13 minuti la luna sorge alle 3.56 e tramonta alle 15.25 la fase lunare la luna è calante ed è visibile al 35% la chiesa ricorda San Pasquale di Bailon e con questo è tutto ricordiamo che a seguire ci saranno le previsioni del tempo cura di Matteo Lacavalla grazie per l'attenzione a tutti voi un augurio di una buona serata grazie a tutti